Mi chiamo Rita Mancuso, sono nata il 12 agosto del 1974 a Balata, in Sicilia, e sono qui per dirvi tutto quello che so su Don Salvorrini. L'incrapettamento è un messaggio, signor Giuse. Certo che da vicino fa tutto un altro effetto. Sattine, sei cornuta e sbirro. Com'è che ti chiami tu? Rita mi chiamo, e allora? Nel mio paese è più grave riferire i fatti ai disbirri che ammazzare il tuo amico più caro. Papà! 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 Poi Don Salvorrini decise di prendere il potere in tutta la Sicilia. E che succedeva se gli altri clan si rifiutavano? Immazzavano. Papà! Tuo fullo in fama. Vai via subito, devi sparire al più presto possibile. Me ne dico. E' un'importante. Località segreta. E da oggi si chiama Silvio Bonura. Sta ragazzina senza rendersi conto che a sette anni ha fatto la tappa. Un esamore non c'è da buttare. Non lo fate a me! Forse un mondo onesto non esisterà mai. Ma che ci impedisce di sognare. Forse, se ciascuno di noi prova a cambiare, forse ci riusciremo.